Quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, che solo ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. Vediamo che succeda, cercherò con uno sforzo immane di raggiungere i due batti strada, una ripresa quasi impossibile, ma ce la possiamo quasi fare. E per Antonio, salve, che ne pensa lei? Eh, te lo dico, la che è bella, non sei pure niente. Aiaiaiai, ci sono i due batti. Faccio quella prima che è Antonio, è relativo. Guardia, questa è bomba, vero? Ce l'abbiamo fatta! Ecco, bomba! Buon Natale! Nessuno gli sfugge, cercavi giustizia